Genova Juventus siamo alla non so che giornata è non mi ricordo però vabbè raga una pescologo mi servirebbe a me veramente assumi un podologo non so dove cazzo ho letto pescologo ma vabbè vabbè donna del denaro agli ospedali già l'avevo fatto devo cambiare la maglia prima di cominciare questa partita me la cambio proprio così me la passa vediamo se riesco a passarlo lo vedo al centro vediamo se fa l'1-2 attenzione il mi vede libero tutto libero davanti ci volate molto in ritardo non sa che attenzione ci litighiamo per prendere la palla alla fine la perdiamo pure devo solo cercare di girarmi lui avanza troppo attenzione perché stava per recuperare palle invece lo faccio io ci provo rinvio molto lungo a trovare me però ovviamente posso accentrare ci posso provare trovo il difensore perché non riesco a capire perché mi allungo la palla troppo avevo fatto una bellissima azione recupero errore difensivo attenzione incredibile incredibile la palla esce fuori il genoa ci prova in qualche modo però ovviamente e poi non capisco come puoi darmi 7.3 e ti recupero anche queste palle qua ho fatto una scivolata a vuoto che non magari manco dovevo fare ci prova di potenza ci posso provare di potenza trovo il portiere a a a a a a a Grazie a tutti.